Bentornati da The Fisbio Show, ultima puntata dell'anno e ultimo numero dell'anno, il 3449 di Topolino. Copertina realizzata da Francesco Di Polito con i colori di Mario Perrotta, dedicata alla storia di apertura, la nuova saga fantasy che prende via proprio in questo numero. E parlo proprio delle cronache degli antichi regni, che chi ha avuto modo di recuperare il volumetto, lo spillatino, che distribuivano nelle fumetterie nel mese di dicembre, prima di Natale, dedicato proprio alle prime pagine di questo primo episodio di questa saga fantasy, che ci tratterà compagnia per qualche numero, storie di Alessandro Sisti e disegni proprio di Francesco Di Polito. Il tutto da un'idea del direttore Alex Bertani, così come indicato proprio nei credits della storia. Come ci aveva anticipato il direttore Bertani nella live di qualche settimana fa, l'ultimo editoriale dell'anno è dedicato proprio a un suo resoconto, un po' diverso da solito, non ci sono le due paginone ricche di storia, aneddoti, complimenti, celebrazioni a autori, disegnatori e tutti quanti, ma è un pupurri, è un insieme di cose, di pensieri che accomunano lui con chi lavora insieme a lui. E il suo messaggio è molto chiaro. Anche quest'anno le vendite del settimanale, a quanto pare, sono andate bene, così come anche gli abbonamenti che hanno avuto un incremento. E il suo auspicio e auguro per il 2022 è quello di continuare ad incrementare sempre di più, far crescere i numeri, il tutto sfornando storie sempre più performanti e di alta qualità, sia a livello di trama, di disegno e di colore. E questo è proprio quello che sta avvenendo negli ultimi mesi sulle pagine del settimanale. E la speranza nostra di noi lettori è proprio quella che questo trend continui ad andare avanti per più tempo possibile e se è possibile anche aumentare sempre di più il livello. E per chi se la fosse persa, correte a recuperare proprio la live con il direttore Bertani, perché ha snocciolato diverse cose, ci ha anticipato diverse nuove uscite, pubblicazioni, nuove storie che sono pronte per il 2022. E a proposito di live, io vi ringrazio per aver partecipato ieri sera alla chiacchierata in live con Giorgio Pezzin, che a differenza delle prime due live di un po' di tempo fa, che risalgono ormai al 2020, questo terzo incontro celebra il suo ritorno ufficiale come autore sulle pagine del settimanale. Questo già a partire dal mese di gennaio, con una nuova avventura delle top stories. Giorgio è un vulcano a cielo aperto, non si ferma mai, ha sempre cose da dire, e non ci si stanca mai di ascoltarlo. Anche in questo caso, per chi non ha avuto modo di seguirla in diretta, può recuperarla tranquillamente in differita, perché ormai è già qui sul canale pubblica, bella e pronta, tutta per voi. Ma partiamo subito con il primo capitolo delle cronache degli antichi regni, l'araldo delle tempeste. L'occhio cade subito, ovviamente, sulle tavole colorate e disegnate. Francesco Di Poito ha supervisionato anche la colorazione. La colorazione è l'opera di Emanuele Virzi, che è un disegnatore del topo, se ben ricordate, anche se da un po' non lo vediamo presente come primo sulle pagine del settimanale. Ma lui aveva già colorato anche una storia di Newton Pitagorico, quella dei colori, la pistola a chiappacolori, con Newton che combina un disastro, in quel di Paperopoli. Ma non è solo opera sua, ha collaborato insieme ad Emanuele Martina Andonova, quindi una coppia di coloristi, che ha realizzato un lavoro strepitoso, perché vi posso assicurare, la colorazione di questa storia è veramente figa. Si può dire o me la censura, YouTube? E sulla scia di Ducktopia, di Artibanni e Alicia Troisi, il direttore Bertani ha voluto sfornare una nuova saga fantasy, prendendo dal mucchio il buon Alessandro Sisti, di cui inizialmente sono rimasto particolarmente sorpreso, perché non era un nome che potesse essere associato, accostato ad una storia fantasy. Ma guardando, leggendo il primo episodio, comunque il buon Sisti, ovviamente con l'aiuto del direttore Bertani, perché l'idea è del direttore Bertani, quindi l'incipit è partito tutto da lui, hanno realizzato un universo parallelo a quello di Topolini e Paperopoli, così come era accaduto in Ducktopia, ma poi Ducktopia ha avuto un'evoluzione un po' diversa e particolare, che l'ha resa una scelta vincente in quell'occasione. In questo caso sembra che il tutto si svolga proprio in un mondo completamente diverso da quello a cui siamo abituati a vedere. E l'utilizzo del classico cast di Paperopoli e Topolinia viene impreziosito da delle new entry, che era da un po' che non vedevamo presenti. Parlo di Gilberto e di Zia Topolinda, che a quanto pare hanno un ruolo fondamentale in questa storia, soprattutto Gilberto. E ho trovato graziosi e simpatici i nomi utilizzati per i personaggi di questa storia. Anche il nome delle cose, degli oggetti, dei luoghi. Vastiplano, di cui è re, sovrano Sir Paperon. E a bordo di questa nave che solca prati verdi infiniti, troviamo anche i tre nipotini, Quirlik, Tarquo e Quannan, a cui si unirà loro Gilbert, o meglio Gilberto. Come dicevo, questo mondo è ricco di animali particolari, disegnati in modo pazzesco da Vipolito, perché abbiamo visto già in Dactopia che si è superato, qui ha mantenuto questo livello alto, proprio nella realizzazione del disegno. Coccogrilli, Piragni, Megalotonti, e poi l'utilizzo di queste radio per comunicare il parlontano. Avremo modo anche di visionare una mappa completa di questo mondo, proprio come un vero libro fantasy, con i vari confini, regioni, e l'altra città, l'altra capitale, Flamok, dove vive Topol. In questo primo episodio accadono diverse cose, ovviamente il tutto ci deve essere presentato in primis, ma quanto pare Gilbert nasconde un segreto, il tutto perché c'è una sorta di mistero dietro di lui, ha perso la memoria, non si sa da dove viene, ma ha la capacità di saper leggere gli antichi libri. E questo fa andare su tutte le furie Sire Paperon, oltre a renderlo molto, ma molto preoccupato. E il primo episodio si chiude, lasciandoci un attimo con il feso sospeso, perché non ci verrà rivelato che cosa c'è, cosa contiene lo zainetto di Wilbert. Sicuramente qualcosa che sarà fondamentale per il proseguo della storia, per capire chi è realmente questo Wilbert, da dove proviene e perché ha questo dono. Quindi buona la prima, soprattutto per la parte grafica, perché è sensazionale il tipo quando è in forma, quando sente sua la storia, come tanti altri suoi colleghi, si esalta e ci regala un tavolo emozzafiato, in più, coadiuvato da una corrazione anch'essa strepitosa, rende il tutto super. E quindi c'è da parte mia curiosità nel proseguire la lettura, attendere il secondo capitolo. Il centro del mondo. Vedremo se verranno inseriti nuovi personaggi, nuove ambientazioni, se il tutto inizierà a crescere sempre di più di intensità per regalarci un'altra saga fantasy che difficilmente potremmo dimenticare a breve. Ma attenzione! Al termine di questo primo capitolo troviamo un nuovo teaser, un nuovo viaggio a inizio, il viaggio del Pippon Tiki, Seguendo il Sole, dal 5 gennaio sulle pagine di Topolino. In fondo, poi, al libretto, troveremo un'intervista breve a Sergio Cabella, l'autore di questa nuova storia, questa nuova avventura, avventura disegnata da Ivan Bigarella. Ecco qui la lunga saga che è stata affidata ad Ivan, di cui il direttore ci aveva già parlato un mesi fa. E finalmente lo vedremo alle prese con una storia lunga e ha avuto anche l'onore di realizzarne la copertina del prossimo numero. Quindi un super Bigarella che sta scalando sempre più posizioni nel ranking dei disegnatori del Topo e, secondo me, se lo merita tutto perché è un fenomeno, l'ho già detto, e ho grandissime aspettative per questa nuova storia. Torna Topolino Giramondo con un'avventura dedicata al Capodanno. Topolino è il triplo Capodanno, Beppe Zironi, testi, disegni, tutto suo come sempre. Topolino, come mai sappiamo bene quando è nei panni di Topolino Giramondo, si troverà ad effettuare un viaggio lampo in Alaska, più precisamente nello stretto di Bering. In questa occasione non sarà completamente solo, avrà una compagnia per un momento ben preciso perché Minnie vorrà accompagnando per poter festeggiare Capodanno insieme a lui, sfruttando un fenomeno curioso, la magia dei fusi orari, gli spicchi immaginari in cui è suddiviso il globo terrestre. E ciò li consentirà di guadagnare un giorno, quindi con la possibilità di zompare da un giorno all'altro senza perdere neanche un secondo. E ad un certo punto la linea immaginaria di questi spicchi consentirà di guadagnare quasi un giorno da uno spicchio all'altro. E sarà proprio la linea del cambio di data che attraversa lo Stato di Bering ad essere la soluzione al problema del Capodanno di Topolino. Quindi passerà al Trove il primo gennaio ma potrà ritornare poi al 31 dicembre e festeggiare il Capodanno insieme a Minnie. È un'avventura anche al Cardiopalma perché ad un certo punto sembra tutto irreversibile, sembra spacciato Topolino a dover rinunciare a poter passare con Minnie nella serata del 31 dicembre per una serie di eventi che accadono in Alaska. Perché si sa le bufere di neve imprevedibili arrecono diversi problemi agli escursionisti. Ma Topolino non demorde, il Topolino Giramondo di Beppe Zinoni non demorde mai, non molla mai e cerca sempre di arrivare dove vuole. E poi troviamo sempre un Beppe Zinoni selvatico, colui che aprirà la porta ad un certo punto al nostro Topolino Giramondo. Ormai è un marchio di fabbrica del Beppe nazionale in quel di Topolino Giramondo e non ci sfugge mai. E non ci sfuggono mai nemmeno i bellissimi disegni che ci regala Beppe Zinoni. Soprattutto la tavola in cui Topolino va dentro questa bufera di neve sulla motoslitta ci fa capire proprio le sensazioni di disagio, di difficoltà che sta vivendo in quel momento. E poi il divertente si paretto di saltare una parte all'altra di questa linea immaginaria e trovandosi in un momento nel primo gennaio del 2022 e in un altro momento il 31 dicembre del 2021. Questo per farvi capire che è realmente così il tutto poi dopo la storia troverete un articolo dedicato proprio allo stretto di Bering e alla magia di queste linee immaginarie e della linea del cambio di data. Cosa molto utile per i neofiti, per i bambinetti, coloro che devono crescere leggendo il Topo ma anche per dei vecchi de me che magari neanche sapevano che esistesse una cosa del genere. Paperoni e il mostro di Puzza è una storia di Marco Nucci con i disegni di Nicola Tosolini. Si unisce la coppia di Zio Paperoni e il giro del mondo in 80 secondi che vide l'esordio di Marco Nucci sulle pagine settimanali come autore che io ho voluto omaggiare inserendola nel calendario dell'avvento del Paper Sera che abbiamo realizzato proprio in occasione di questo Natale per accompagnare e avvicinare a Natale tutti i lettori con una selezione di storie che secondo noi meritano di essere lette e che rappresentano secondo noi il Natale Disney. Se torniamo parecchio indietro nel tempo in una delle storie di Marco Nucci che al momento mi sfugge il nome se ben ricordate Paperoga già sfornava delle torte puzzolenti maleodoranti e proprio Marco Nucci mi disse che sarebbe prima o poi tornata una torta di questo tipo in una storia di Paperoga o meglio il Paperoga Cuoco di queste torte puzzolenti è una storia muta non molto facciniana discosta proprio dello stile di faccini perché di per sé ha un lato romantico anche se inizialmente un po' di disagio c'è nel leggere una storia dedicata ad un mostro di puzza praticamente la puzza il fumo che fuoriesce da questa torta ha una colorazione verde per rappresentare proprio il maleodore che fuoriesce da essa e prenderà la sembianza di un mostro che vivrà praticamente sempre con Paperoga giorno e notte quindi mangerà giocheranno insieme guarderanno una serie tv ma dovranno anche sloggiare ad un certo punto da Paperopoli perché il vicinato inizierà a lamentarsi e quindi andranno a fare una gita un'escursione in campagna e montagna anche lì poi gli animali del bosco e della foresta avranno qualcosa da dire qui esce fuori il lato romantico di questa storia perché purtroppo questo mostro di puzza ha il destino segnato dovrà in qualche modo sbarazzarsene però soprattutto perché la torta poi non so quanto tempo potrà durare intera e il finale riesce a sorprenderci e regalarci comunque un sorriso è una sorta di lieto fine un po' inaspettato bravo come sempre Nicolò Tosolini perché in queste storie riesce sempre a tirare fuori in meglio di sé così come è accaduto anche nel giro del mondo negli 80 secondi e quindi le puzzette le torte e malodoranti sono canon ritornano le cronache e feline miau con il gatto malachia protagonista fuori portata storia di Pietro Zemelo e disegni di Enrico Faccini a differenza delle storie precedenti in questo caso c'è un dialogo tra Paperino e Malachia sono entrambi i protagonisti di questa storia in un modo Paperino e nell'altro modo Malachia il classico gatto che vuole giocare che a volte fa rispetti è testardo e non ascolta mai il padrone ed è questo quello che accade in questa storia che poi vedrà Paperino doveva un attimo fare un passo indietro e cercare l'aiuto di Malachia perché combinerà un piccolo pasticcio ma è una classica rappresentazione di quello che accade in una casa con un gatto e quando il gatto decide di farsi i fatti i suoi il padrone ne pagherà come sempre le conseguenze ed è questo un po' il messaggio delle cronache feline come abbiamo visto da quando sono nate fino ad oggi e fa piacere che continuino ad andare avanti e anche in questa occasione come capita in altre miniserie vengono aggiunti nuovi autori al cast e questo fa ben sperare per il suo futuro e chiudiamo con topolino il web 2.e basta nuovamente Alessandro Sisti ai testi a sorpresa Casti ai disegni come già abbiamo visto nelle cronache degli antichi regni Sisti si è divertito ad inserire reinserire dei personaggi rimasti un po' dietro le quinte ultimamente sulle pagine settimanale e in questa storia viene rispolverato il professor Enigm forse non la storia ideale per tirarlo fuori perché senza delle altre storie di questo numero questa mi ha leggermente deluso perché ho come la sensazione che sia Sisti che Casti non si siano trovati al loro agio nel scrivere e disegnare questa storia non ce li vedo nei panni di coloro che vadano d'accordo con trama e disegno come se non fosse nelle loro corde ed è quello che traspare durante la lettura sono le mie sensazioni che ho provato durante la lettura di questa storia e il tutto era slegato faccio anche difficoltà a raccontarvela farvi capire la mia sensazione di disagio di disorientamento sono rimasto spaesato ecco perché a quanto pare il web non funziona più e qui si cerca di spiegare ai lettori che cos'è in realtà il web non è la posta elettronica ma sono i siti a cui si accede per navigare tutta una serie di informazioni molto utili che però male vengono inseriti in questa storia nella trama pagina dopo pagina il tutto sembra troppo pesante da digerire e anche Casti non mi è sembrato particolarmente in forma il tutto condito da una comparsata inquietante che non mi aspettavo assolutamente di vedere questo personaggio in questa storia attenzione spoiler perché diavolo è stato inserito mister vertigo perché cosa c'entrava non dobbiamo tirare fuori questi personaggi pur di agganciarci a una continuity un po' surreale un po' utopica e rivedremo anche Arkadin Perdinci ma questo sembra quasi fare da traino quello che abbiamo visto nelle ultime storie sia di vertigo ma anche dell'ultima storia della settimana scorsa di macchia nera il tutto per festeggiare i 30 anni dalla nascita del WVV in poche parole è quello perché poi l'articolo che troverete dopo dedicato proprio a queste celebrazioni ma la storia non mi ha convinto al 100% poco 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 mi spiace che siamo stati utilizzati due grandi nomi ma il risultato finale è un po' meh questa è ovviamente la mia sensazione la mia opinione poi magari alla maggior parte di voi sarà piaciuta e io sono contento però mi ha lasciato parecchio parecchio perplesso questo e quanto ebbene cari amici siamo giunti alla conclusione anche di questa recensione l'ultima dell'anno l'ultimo video dell'anno come sempre commentate qua sotto fatemi sapere le vostre impressioni su tutte le storie perché c'è molto da dire e continuate ad iscrivervi perché il traguardo dei 900 iscritti è lì ad un schiocco di dita ad uno sputo mancano pochissimi iscritti per raggiungere un'altra cifra tonda un altro traguardo grosso per questo canale che piano piano sta crescendo sempre di più e vedremo il prossimo anno cosa ci riserverà il The Fisbio Show ci sono tanti progetti in cantiere ma il tempo è quello che manca ma cercherò di recuperare pian piano quello che ho lasciato indietro e ben sapete di cosa parlo i grandi i classici Disney il progetto PK e tante altre cose che pian piano cercherò di pubblicare e presentare a tutti voi e io quindi vi faccio un grandissimo augurio per un 2022 più sereno più tranquillo che possa farci tornare lentamente alla normalità anche se in questo momento siamo completamente all'opposto di quello che sto dicendo ma speriamo che prima o poi tutto torni come prima ma l'unica sciatezza che il The Fisbio Show continuerà la prossima settimana torneremo di nuovo qui come tutte le altre settimane a raccontare le avventure del topo e con delle nuove like con nuovi incontri autori addetti ai lavori eccetera 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 quindi cari amici buon anno io vi voglio bene come sempre noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao